Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, parapà, paparapapà, paparapapà, sbloccato da pochi minuti la fase numero 2 della skin ibrido. Volevo vederla insieme a voi e quindi clicchiamo su ottieni e chiudi, prot, andiamo a vederla ragazzi nel dettaglio. Guardalo qua raga, guardalo qua, che figo, che figo ragazzi. Fase numero 2 di ibrido, in posa, tanta roba, tanta roba. strappata tutta la parte di destra, dove esce il primo arto a forma di drago. Si vedono anche sulla testa gli strappi, guardate che dettagli, del cappuccio che fanno vedere le squame. E anche la gamba si strappa, si comincia a strappare e mostra sotto il drago. Insomma ragazzi, cosa ne pensate della fase 2 di ibrido? Ditemelo qua sotto nei commenti. Vi ringrazio per aver guardato questo video velocissimo. Noi ci vediamo domani mattina in live. Ciao!